Buongiorno a tutti e benvenuti. La Carpegna Prosciutto ha rotto l'incantesimo delle sconfitte consecutive e dopo 5 stop filati è andato ad espugnare la Unipol Arena di Bologna contro la Fortitudo. Il risultato però non è ancora così certo in quanto c'è un ricorso pendente presentato dalla Fortitudo per a suo dire posizioni regolari di Justin Robinson al ritorno in campo dopo il Covid e la sua negatività. Pesaro poi in settimana ha perso a domicilio contro la capolista Brindisi. Oggi cominceremo parlando della Serie B e della Golden Gas Senigallia che è decima in classifica nel girone C della Serie B. Il suo allenatore è qui con noi. Da una giornata alla guida c'è Gabriele Ruini. Benvenuto. Grazie, salve a tutti. Alla mia sinistra c'è il quasi sempre presente Andrea Pecchia. Ciao Coccio. Il non sempre presente. Buongiorno a tutti. Gabriele, tu sei nato a Reggio Emilia nel 1974. La prendo un po' alla lontana. Sei un ex playmaker di 185 centimetri. Sei cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna. Hai anche esordito in prima squadra con due partecipazioni in Coppa Italia nella stagione 92-93. È stato quello l'appice della tua carriera che poi si è comunque snocciolata tra B1 e B2 in particolare. Sì, esattamente. Il settore giovanile della Virtus che ai tempi era uno dei settori giovanili più prestigiosi d'Italia. Ho avuto la fortuna di essere allenato dai grandi allenatori, uno fra i quali è Ettore Messina che conosciamo tutti. Sì, poi Bucchi, Valli, Consolini, Pasquali. Esatto, ce ne sono veramente tanti altri. Poi sì, l'appice è stato quello. Poi ho fatto tanta serie B, l'altezza era quella che era. Forse la tecnica non era adeguata ai tempi, ma adesso forse potrei anche giocarci, visto il livello tecnico che c'è adesso. Però sì, più che altro serie B, tanti anni, una ventina d'anni di serie B e adesso sono qui a cercare di trasmettere queste mie capacità, questi insegnamenti ai giocatori. Tu eri già stato nelle Marche come giocatore, hai militato ad Ancona, Fabriano, Montegrenaro, Osimo e poi proprio a Osimo hai cominciato la tua seconda carriera, quella di allenatore otto anni fa con le giovanili, poi Ancona, Matelica e Incigold. Esattamente, sì. Io ho giocato nel 2000, è stato il primo anno che sono venuto nelle Marche, regione in cui si vive veramente bene, ci tengo a precisarlo. Tanto è vero che mi sono trasferito qui, sono rimasto qui, anche mio fratello ha fatto questa scelta qui. Io vivo a Nuana, lui vive a Sirolo. Sì, ho giocato tanti anni qui in zona, poi ho iniziato la carriera di allenatore con le giovanili da Osimo dove giocavo e allenavo e poi sì, ho proseguito ad Ancona con le giovanili. La prima esperienza con i senior l'ho fatta a Matelica due anni fa, se non mi sbaglio. Adesso sono qui di nuovo con i senior a scontrarmi con i vecchietti, fra virgolette, non più con i giovani. E vedremo come va, siamo partiti bene e speriamo di proseguire su questo passo. Andrea, tu e Gaga Ruini, giusto il soprannome? Sì, il soprannome Gaga, esatto. Siete molto amici, tu l'hai anche allenato a Fabriano nella stagione 2007-2008 e state facendo insieme un corso allenatori? Sa tutto come vedi, non gli spugge niente. Mi ha anche ricordato delle cose che avevo rimosso. Sa più lei di noi che noi di noi stessi. Allora, Gabriele l'ho conosciuto a Fabriano nella stagione in cui io ero assistente di Massimo Bernardi. Lui arrivò a metà stagione più o meno, mentre con noi era presente il fratello, c'era Fabio. Venne aggiunto agli allenamenti, quindi immaginati come noi aggiungevamo ragazzi per gli allenamenti. Da lì l'ho conosciuto, poi ci siamo sentiti molto spesso, ci siamo visti molto spesso in giro qui nelle Marche. Poi abbiamo fatto per metà, da ottobre, scusami, fino a novembre, un corso per gli allenatori nelle Marche, in quanto io sono formatore nazionale, Gabriele deve fare dei corsi per diventare formatore. È in attesa di fare dei corsi, adesso è tutto sospeso, quando gli piace questa attività qui. Quindi con me ha fatto il corso di allevo allenatore, ci conosciamo da tempo, ci sentiamo spesso. Bolognese simpaticissimo, quindi sia lui che Fabio, che fratello sono due simpaticissimi ragazzi del basket. Beh, è un allenatore esperto e carismatico, Gabriele. E sta nel sangue, ha avuto la fortuna di essere allenato da quelli che hanno il pepe buono, e di conseguenza lui sa cosa significa giocarla, vederla, eccetera. Poi ha il suo modo, nel tempo avrà modo di mettere in pratica quello che lui crede, come suo credo cestistico, difendo di più, attacco di più, voglio correre di più, stresso i giocatori, non li stresso, li metto in condizioni. Questo è il futuro che avremo sicuramente a breve, una scuola sua lasciata a Senigliaia. Gabriele, l'abbiamo un po' anticipato, tu sei il fratello maggiore di Fabio Ruini, classe 80, anche lui playmaker. Tu hai detto, io sono più regista, lui aveva più tiro, però in B1 vi siete incontrati due volte e hai vinto in entrambe le occasioni. Sì, sì, quello sì, infatti ne vado fiero. Io ho avuto la fortuna, le due volte in cui abbiamo giocato contro, di giocare in squadre fatte per salire, insomma, squadroni. Lui invece in quegli anni lì era un po' sceso, per cui... Beh, è stato anche il capitano di Fabriano, no? Sì, sì, è stato anche il capitano di Fabriano, però gli anni in cui ci siamo scondrati in B1, lui era in squadre di medio-basso livello, ecco. Però lui ha fatto tanta serie A, io non l'ho fatta, lui era più specialista. Vabbè, però negli incontri che abbiamo fatto, e l'ho vinto io. È fatto bene ricordarmelo. Venendo al presente, dicevamo che tu, assieme ad Andrea Peverada, avete preso il timone da Ricchi Paolini da una giornata. So che tieni anche a sottolineare che lui ha lasciato comunque una squadra ben messa, ha fatto un buon lavoro. Certo, è la prima cosa che ho sempre detto, perché al di là della persona che è Riccardo Paolini, dove ci ha sempre coinvolto in tutto, nelle scelte e quant'altro, tecnicamente abbiamo imparato veramente tanto, abbiamo appreso tante cose, e questa è una cosa che non è scontata, perché a volte succedono in realtà di serie B, ma anche di serie A, magari dove trovi allenatori che ti fanno fare poco, o dove magari impari poco. Noi invece, personalmente, io, ma penso anche Andrea, siamo cresciuti tanto sotto il profilo tecnico. Portiamo avanti, stiamo portando avanti il lavoro che ha fatto lui, il lavoro super che ha fatto lui, e poi dopo lì, la testa dei giocatori, entrarci è difficile. Stiamo cercando di farli giocare più liberi, di provarli a fare divertire di più. Ultimamente qualche giocatore aveva perso un po' il sorriso, non ti so dire i motivi, non ti so spiegare le varie dinamiche, però penso che si debba giocare sorridendo, divertendosi, non sorridendo, divertendosi. Se diventa un peso, è meglio che stai a casa o che cambi sport. Assolutamente sì. Venivate da quattro sconfitte consecutive, cinque nelle ultime sei partite, e poi nell'ultimo turno è arrivata questa bellissima vittoria nel derby, in casa di Ancona, per 77 a 101, un successo tondo e meritato, loro avevano qualche assenza. Sì, 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 loro sicuramente avevano degli alibi, mancavano due o tre giocatori, uno tra i quali cent'anni, che penso che sia il mio realizzatore della Serie B, credo, del girone. Erano stati fermi per i problemi legati al Covid una settimana, per cui loro avevano tanti alibi, ciò non toglie che alla fine noi comunque abbiamo fatto una prestazione, anche al di là delle aspettative, cioè noi sarebbe bastato vincere di un punto anche allo scadere, però siamo partiti bene, cioè non siamo partiti benissimo, però pian piano abbiamo acquistato fiducia, abbiamo giocato sciolti, liberi, ci siamo tolti anche noi questa scimmia dalla spalla e speriamo che non ci ritorni sulla spalla. Come esordio poteva andare peggio, dai. Come esordio poteva andare peggio, sì, sì, è andato tutto bene. Speriamo di continuare così, perché adesso poi arrivano, la prossima settimana arrivano tre partite che saranno decisive per il nostro futuro. Abbiamo il turno infrasettimanale, prima abbiamo una partita con Civitanova, poi abbiamo il turno infrasettimanale a Iesi e poi l'ultima partita a Giulianova, altrettico sarà importante, insomma, dove si decideranno le nostre sorti. Andrea, tu come vedi la Golden Gas, allenata da Gabriele Ruini, ha dominato la Luciano Mosconi, ha mandato cinque uomini in doppia cifra, il miglior marcatore dell'incontro, Peroni, con 23 punti, top scorer assieme al Dorico Caverni. Beh, credo che abbia già detto tutto Gabri, nel senso, nel momento del cambio, c'è sempre una reazione mentale da parte dei giocatori in tutti gli sport, perché si ricrea una fiducia, anche e soprattutto in chi non gioca, e quindi diventa una volontà a tutti di rimetterci in gioco, e quindi vedi l'entusiasmo, ritorna all'entusiasmo, e purtroppo, lo dico, perché poi quando tocca a noi, subirla questa cosa è la stessa cosa, però è stato un ottimo inizio, e sicuramente per Senigaglia questa vittoria qui rappresenta tantissimo morale, perché appena riprendi in mano un discorso, dopo tante sconfitte, è bellissimo togliersi quell'acido che ti viene a livello mentale, a livello anche di stomaco, perché non sei mai contento, non sei mai felice, e poi vai incontro in certi momenti dove tiri facili non ti entrano, e tiri complicati sono complicati, poi ti diventa invece che il tiro facile fai canestro, e il complicato ti va dentro, quindi ti si va a sommare una serie di cose che cambia la stagione, e ben per Senigaglia, vediamo quello che succede nel proseguo. Coach, per voi finora sette vittorie e nove sconfitte, restano sei partite da giocare, qual è l'obiettivo della stagione? L'obiettivo della società è raggiungere la salvezza il prima possibile, sono il nonno, il decimo, l'undicesimo posto, sono gli obiettivi da raggiungere, e poi vedremo, io sinceramente penso partita per partita, abbiamo una squadra, abbiamo una squadra che è capace di tutto, è stata capace di battere le squadre molte più brazonate, costruite per il salto di categoria, è stata capace di perdere con delle squadre inferiori, e conterà molto l'aspetto mentale, sicuramente, conterà molto anche l'aspetto fisico, perché ci sono molte partite ravvicinate, e la mia intenzione è di fare ruotare di più i giocatori, per affrontare queste tre partite che saranno decisive per noi. Il mese d'oro è stato gennaio, con quattro vittorie in cinque partite? Il mese d'oro, esatto, è stato gennaio, in cui stavamo bene, giocavamo bene, eravamo in fiducia, e poi di punto in bianco sono cominciati un po' di malumori, qualche problemino fisico di qualche giocatore, e dopo lì è entrato in campo l'aspetto mentale, magari alcuni giocatori non si sono chiariti, non hanno esposto i loro problemi, quali erano le loro idee, ecco, alla fine, io penso che tra i giocatori e l'allenatore ci debba sempre essere un confronto, soprattutto col playmaker, che è l'allenatore in campo, ci debba sempre essere un confronto, poi magari lui la pensa diversamente, e giustamente decide l'allenatore, però il confronto ci deve sempre essere. Adesso come state? Siete al completo? Adesso stiamo bene, fisicamente e mentalmente? Siamo bene, siamo al completo, ci stiamo allenando bene, mi sembra che si divertano, allenandosi, e poi dopo sabato vedremo i risultati. Si gioca tra poche ore. Tra poche ore, esattamente. Adesso dobbiamo fermarci, c'è il nostro consueto temato e pubblicitario, non andate via perché torniamo tra pochissimo. Bentornati a Big Basket, dagli studi di Recanati, seconda parte della nostra trasmissione, siamo assieme ai lead coach della Golden Gas Senigallia, Gabriele Ruini, e al nostro tecnico Andrea Pecchia. Si parla di Serie B, Gabriele, tu sei stato anche nominato la scorsa estate responsabile tecnico del settore giovanile, Biancorosso, c'è in piedi un progetto con le società del comprensorio, continui a coordinare anche tutte le varie categorie giovanili? Sì, continuo a coordinare anche le categorie giovanili, infatti non ti nascondo che la settimana scorsa ho passato due notti difficili, perché tra responsabilità della prima squadra, del settore giovanile, ho fatto proprio fatica a dormire. No, vabbè, chiaramente, adesso la cosa primaria è la prima squadra, però aiutato da tutti gli altri allenatori, stiamo portando avanti anche il settore giovanile, abbiamo ripreso lunedì con tutti i tamponi e i ragazzi, insomma abbiamo preso con gli allenamenti, sì, io penso che il settore giovanile sia fondamentale per tante società che vogliono continuare a giocare, soprattutto per la nostra società, per cui ci dedico tanto tempo seguendo anche gli allenatori, assistendo anche agli allenamenti, cosa che dico a tutti, che ho detto a tutti gli allenatori, cercate di girare nei vari gruppi per vedere cosa magari fanno i vostri colleghi, i vostri colleghi allenatori, per imparare a prendere qualcosa, se dovete dare dei consigli, tutti siamo in grado di dare dei consigli e tutti possiamo prendere qualcosa dagli altri allenatori. Il campionato di Serie B, ma non solo il campionato di Serie B, quest'anno è molto condizionato dal Covid e chi ne ha risentito parecchio in questo periodo è Fabriano, che ha dovuto rinunciare anche alle finali di Coppa Italia, è l'Aristo Pro una delle favorite, a tuo parere, per il salto di categoria? Ancora noi non ci abbiamo giocato, però direi di sì, vedendoli giocare qualche volta, vedendo il roster che hanno, direi che siano la squadra più favorita. Purtroppo quest'anno c'è questa variante qui che può farti saltare una stagione, società che hanno fatto investimenti grossi potrebbero rischiare di vedere la squadra e addirittura non giocare. C'è questa variabile qui, che prima erano gli infortuni, adesso c'è anche questa cosa qui del Covid, è una situazione molto strana. Io mi auguro che alla fine tutti riescono a giocare, perché gli investimenti che sono stati fatti così, se dovessero saltare sarebbe un peccato, soprattutto per una città come Fabriano, che vive di basket, che ha tifo, che ha una storia, ma poi ce ne sono altre, Roseto, ce ne sono insomma tante altre. Adesso mi scordo qualcuno Andrea. No, di quelle che... Sarebbe veramente un peccato. Le società ambiziose, che hanno tradizione, che hanno pubblico, dovrebbero andare avanti, dovrebbero salire di categorie. È comunque un campionato molto equilibrato, in testa e in coda. Sì, 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 sì. Quello sì. Abbiamo visto delle squadre capitolare contro squadre di bassa classifica, dovuto anche al fatto che magari i giocatori più importanti non ci sono, sono fuori per Covid, dovuto al fatto che squadre per due settimane sono dovute stare in quarantena, non sono potute allenare. Per cui gli equilibri cambiano così, da un giorno all'altro. Ah sì. Andrea, veniamo invece alla Serie A, la Carpegna Prosciutto ha perso, pensiamo e teniamo per lungo tempo, Capitan Carlos Delfino, per un brutto infortunio a un piede, ha sbancato Bologna, sponda fortitudo, anche se il giudizio è ancora pendente, è un caso completamente nuovo, di giurisprudenza non ci sono precedenti, quindi davvero tutto aperto, poi fino all'eventuale terzo grado. Guarda, faccio il fenomeno questa volta, dico che non c'è qualcosa di scritto che dice se tu giochi con un giocatore che poi non ha fatto completamente la quarantena o il recupero, perdi la partita, eccetera. Quindi io non credo che possa Bologna vincere questo ricorso, al di là del fatto, del concetto che l'importante è che il giocatore era in salute e che non sia stato mezzo di trasmissione del virus. Detto questo, è una partita, una sconfitta che, se Bologna ricorre, non ricorre con una giusta causa dovuta a un tesseramento sbagliato, a qualcosa, cioè è una normativa, tra l'altro anche nuova, che io non so quello che potrebbe venire fuori da parte del giudice, quindi per Bologna dovrebbe essere una cosa da accettare sul campo, però vediamo quello che dirà il giudice. A Bologna 10 ases per Kane e 13 rimbalzi offensivi di squadra, bene da 3 dopo un periodo così così, e con Brindisi invece malissimo da 3 e in difesa, questo mercoledì scorso, Kane anche una caviglia dolorante, il sogno dell'epicasa continua, può vincere lo Scudetto, secondo te la squadra del duo Vitucci-Morea, ci sono queste annate magiche come quella di Varese di tanti anni fa, di rifalcati, forse come Negin De Paul? Sarebbe bello, io lo dico da sempre, per me Camilla veder vincere la Juventus, l'Inter o il Milan, la Juventus, mi ha fatto abbandonare il calcio, non lo vedo più, io non so più chi c'è in Serie A di calcio, te lo dico sinceramente, perché tanto vincono 3 squadre, E quindi se sapere che vincono 3 squadre a me non mi piace. Nel basket invece c'è, è stata comunque sia un giro, purtroppo non al sud, questo è storico, cioè non ci sono società, e soprattutto al sud oltre Caserta, e quella vittoria di Caserta sta su Rai 3, sono tutti famosi quelli di quella vittoria, che cosa significa? Questo è bello, rende la cultura nostra ancora più ampia, Brindisi che possa vincere lo Scudetto, secondo me se lo augura, tutto il sud, in più se lo augura parte di coloro, che non vogliono vedere le stesse cose, se vince Milano, lo vince con merito, perché ha il budget grosso, l'allenatore bravo, la squadra completa, però nella realtà vince una squadra, che alla fine chi vince, è come per dire, è stato fatto un lavoro normale, vince Brindisi potrebbe invece, vince, adesso stiamo facendo fantabasket, perché non sappiamo se nella corsa, non rientra Venezia, non rientra Sassari, cioè non sappiamo quello che può. I playoff poi sarebbero aperti, però è una bella favola, che ci piace seguire, cavalcare. Certo, in America che cosa succede? Succede che quando vince un club, che non è il solito club, gli americani impazziscono, e da lì nasce il business vero, perché tutti vogliono vedere, da noi c'è questa cosa, che poi alla fine, però Milano non è detto che vinca lo Scudetto, non è proprio, visto come sta Brindisi, quindi chiudo dicendo di Pesaro, anche la sfortuna dell'infortunio di Delfino, questa sconfitta con Brindisi, ci stava la grande, magari non con questo divario, perché poi rende un po' di scontentezza, ci stava con un divario minore. Beh sì, Brindisi è l'unica che ha battuto due volte Milano, e due volte la Virtus Bologna, quindi primo posto assolutamente meritato, però effettivamente Pesaro, deficitaria, è mai in partita con la capolista. Non è una partita che ti interessa, poi se la vinci è felice tutto il mondo, se la vinci fa il capolavoro, però perdere con Brindisi è ammissibile. Invece ci sono state delle sconfitte precedenti, però il Covid ha dato il contributo, fermando il playmaker, poi la Coppa Italia ti ha dato quella gioia, che alla fine ti ha sgonfiato la testa, e quindi sei arrivato nel campionato meno combattivo rispetto a prima. Ci stanno, tutti questi cambiamenti ci stanno, succedono durante l'anno. Speriamo che sia giusto la difesa, che si trovi un'alternativa al tiro da tre. Gabriele, tu stai seguendo il campionato della Carpegna Prosciutto, il campionato di Serie A, Pesaro rispetto agli ultimi anni sta facendo decisamente meglio, però ha vinto una delle ultime sette partite. Sì, sta facendo decisamente meglio, lo seguo, più che altro seguo la Virtus Bologna, che è la squadra dove sono cresciuto, dove tra l'altro gioca anche un anconetano, che ho avuto la fortuna di allenare, Alessandro Paiola. Sì, ho visto delle partite di Pesaro, sicuramente quest'anno la squadra è tecnicamente migliore rispetto agli anni scorsi, però ho visto un'identità difensiva che non c'era, e ci sta, in questo momento qui ci sta, c'erano dei giocatori fuori, Brindisi sta giocando veramente bene, sta giocando un basket bello da vedere, mi danno l'idea di un gruppo compatto, che si divertono a giocare insieme, c'è feeling con l'allenatore, che reputo veramente, veramente uno dei migliori di tutta la Serie A. La Virtus Bologna, a proposito, ha mancato di un soffio la conquista della finale di Eurocup, e quindi la prossima Eurolega, peccato per Paiola. Esatto, devo dire che in questi giorni qui sono in lutto, perché l'obiettivo stagionale di ritornare in Eurolega è fallito, adesso ci rimane solo il campionato, che prima, fra virgolette, snobbavano, mi auguro che si possano riprendere col campionato, anche se penso che psicologicamente un'ammazzata del genere possa anche incidere, spero di no, ma speriamo che si riesca a ritornare concentrati sul campionato per provare a vincere, alla fine i mezzi c'è l'anno, il roster c'è, speriamo il campionato italiano. A proposito del campionato, veniamo ora ai quadri delle partite del weekend, cominciando come sempre dalla Serie A, dove c'è la ventottesima e terz'ultima giornata di stagione regolare, oggi Aix Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, domani Germani Brescia contro Banco di Sardegna Sassari, Allianz Trieste, Carpegna Prosciutto Pesaro, ore 17 su Eurosport 2, e ancora Umana Rair Venezia, Fortitudo Lavoro Più Bologna, De Longhi Treviso contro Open Geometis Varese, Acqua San Bernardo Cantù, Una Hotel Sareggio Emilia e Picasa Brindisi, Vanoli, Cremona. Andrea, Trieste non sta vivendo un momento brillantissimo, viene da quattro sconfitte consecutive. Allora, è nel momento clou la stagione, perché se guardiamo la classifica, 16 l'ultima, 18 parecchie squadre, Pesaro lì e poi Trieste, eccetera. Questo è un incontro bellissimo da dover vedere, perché in campo ci andranno le squadre completamente nuove, perché adesso inizia la parte finale. Quindi questo è il momento in cui ogni gara vale doppio e in campo si vedrà un bel combattimento. Trieste può essere un po', diciamo, sgonfia come lo era Pesaro prima della vittoria, contro Bologna, quindi ci può stare che per Pesaro si apre l'opportunità di andare a fare una vittoria che se viene questa vale doppio, chiaramente, a Trieste. Molto importante questa partita. Cantù-Reggio Emilia è un drammatico spareggio. Sì, quella è una partita che chiaramente per Cantù se dovesse perdere rischia tantissimo e può rischiare la stagione, perché poi da lì diventerebbe difficile. A colpi di miracoli non credo che Cantù riuscirebbe ad andare avanti, anche se nell'ultima parte del campionato comunque sia ha dimostrato di non essere una squadra morta, ma di essere là. Però è iniziato tardi tutto il processo per cui è in rincorso sulle altre. Dicevamo appunto, Pesaro all'aumento a più 4 dall'ultimo posto, sempre ricorsi permettendo. Mancano tre incontri da qui alla fine, la Carpegna Prosciutto avrà dopo Trieste, Milano in casa e Brescia in trasferta. I play-off sono lì, ma occhio dietro. Sì, direi che a motivarti sono due cose. Sia dover non guardare il fondo della classifica, anche se questo non credo che debba mai preoccupare Pesaro quest'anno, ma soprattutto pensare che con uno sforzo incredibile ti puoi ritrovare dentro i play-off e coronare una stagione che la Coppa Italia è stata già un bellissimo premio per i tifosi, per la città, per la società, per tutto l'ambiente. Arrivi ai play-off hai fatto veramente un capolavoro, quindi hai questa motivazione qui forte. Sì, servirebbe un colpo di coda per giustificare un gerone di ritorno abbastanza anonimo finora. Sì, però ci stava, che succedesse questo Camilla ci stava secondo me da parte di Pesaro. Quinto turno della fase aorologio in Serie B, gerone C, oggi Antenore Padova Iesi, Vicenza Ancona, Senigallia Civitanova, Cividale Montegranaro e Monfalcone Fabriano. Gabriele, voi riceverete Civitanova che è penultima con quattro punti meno di voi. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una brutta partita, una partita carica di tensione, una partita sporca, penso che loro proveranno a metterci pressione addosso per non farci giocare e sicuramente saranno due punti fondamentali sia per noi che per loro. Noi giochiamo in casa, siamo in fiducia, però non ci dobbiamo rilassare. Daremo tutto quello che abbiamo cercando di far ruotare anche i giocatori perché poi giochiamo mercoledì. Esatto, mercoledì a Iesi nell'infrasettimanale. Esatto, per cui non vorrei spremere troppo i più anziani, per cui avrò bisogno del contributo di tutti i giocatori, già glielo ho detto in settimardi, farsi trovare pronti, la prima qualcuno l'ha giocato poco, delle seconde linee, fra virgolette, per cui sarà fondamentale anche il loro contributo. Iesi va a Padova in casa Antenora, è difficile ma non impossibile? Difficile ma non impossibile, però reputo Padova una squadra quadrata di giocatori esperti che giocano insieme da tanti anni per cui si conoscono, se non hanno assenze non so se gli rientra il playmaker De Nicolao, se non mi sbaglio che è fuori da un po'. Sì, Francesco. Esatto, se hanno anche il playmaker e sono al completo è tosta, è tosta, è veramente tosta il campo a Padova va bene, non c'è pubblico però in casa giocano veramente bene, hanno un allenatore che ti fa giocare bene, seguono quello che gli viene detto, è tosta. Ancona sarà a Vicenza, vorrà rifarsi dopo la sconfitta con voi ma l'incrocio è duro. Sicuramente perché Vicenza è una squadra giovane con tanti punti nelle mani, conosco l'allenatore che fa i corsi, tra l'altro fa i corsi conoscere che Andrea fa i corsi allenatori nazionali per cui uno molto preparato e Ancona poi dipende da chi gli rientra, io non so, non ho visto se gli rientrano dei giocatori, è chiaro che senza cent'anni, senza non mi ricordo chi era fuori, Potì che si era fatto male a Caviglia, dovrebbe ritornare Rossi che ha giocato un po' con noi, insomma se gli rientrano i giocatori importanti se la possono giocare fino alla fine sicuramente. Montegranaro va a trovare la prima in classifica a Cividale, quante chance contro i Pilla Boys? Cividale è una di quelle squadre costruite per salire, è una squadra grossa, ci sono giocatori che hanno tanti punti nelle mani, Montegranaro non ha tantissimi punti nelle mani, però è una squadra che difende bene, penso che la chiave sia quella, se riesce a tenere il punteggio basso forse se la può giocare, se questi arrivano a 80 punti la vedo dura, la vedo molto dura. Infine Monfalcone-Fabriano Monfalcone-Fabriano si gioca a Monfalcone-Fabriano? Non te lo so dire. Al momento in cui registriamo non siamo cerdì. Dico Fabriano perché Fabriano ha un roster che è la categoria superiore, sono in tanti e anche se Monfalcone non pensavo fosse, insomma, arrivasse dove adesso anche loro mi sembra che abbiano cambiato allenatore metà campionato e siano sicuramente migliorati però il roster è nettamente più importante quello di Fabriano, di Dico Fabriano. Andrea, una tua chiosa su Senigallia e sul derby odierno con Civitanova? Beh, ha detto tutto già Gabri, l'ha presentata benissimo, indubbiamente queste sono partite che se poi c'è del sano agonismo chi rompe l'equilibrio se prende un bel vantaggio lo può tenere e chiaramente il Senigallia se va sopra nel punteggio deve riuscire a tenere Civitanova sotto per non dargli speranza allora magari può succedere questo. Se invece va la partita nel finale dopo le partite si giocano punto a punto e questo cambierebbe tutto. Bene, è davvero tutto per questa puntata di Big Basket ti ringrazio infinitamente l'head coach della Golden Castigallia Gabriele Gagaruini Grazie, grazie a te. Un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione. ringrazio il nostro bravissimo coach Andrea Pecchia grazie in bocca al lupo Gabri e grazie alla bellissima e bravissima Camilla Cataldo come al solito ecco grazie mille a tutti voi ci vediamo sabato prossimo ciao ciao It's a beautiful It's a beautiful